Il Dopovai rimane non solo nei paesaggi, ma anche nel cuore e nelle menti delle persone che hanno vissuto quei momenti. Memorie che, grazie a un progetto finanziato dalla Presidenza della Repubblica e dalla Regione Veneto, con la partecipazione della provincia di Belluno, grazie al lavoro di tre antropologi, rimarranno custodite nel Museo Etnografico di Serravella a Cesio Maggiore. Il nostro è un intento, diciamo, legato al Museo Etnografico della provincia di Belluno, che ha un archivio sonoro importante e che per sua missione raccoglie testimonianze e memorie della gente che abita e che ha abitato questi territori. Una memoria, quella che si vuole creare, che racconti ai visitatori o ai cittadini di domani quanto accaduto anche nelle sue diversità. Innanzitutto è un territorio assolutamente diverso. Diverso è parlare della Val Visdende o dell'Alto Agordino e parlare, ad esempio, di Feltre, che è una città rinascimentale che è stata profondamente danneggiata da Vaia, o delle frazioni di Feltre come Tomo e Villaga che hanno avuto tetti scoperchiati, gente terrorizzata per quello che stava succedendo. Ricordi anche drammatici, come quelli di una donna di Feltre. Veneva i vetri delle finestre che a un certo punto hanno cominciato a rompersi, quindi lei è scappata, è andata in cantina, ha cercato di telefonare a casa, ha risposto, il figlio ha detto, sto morendo. Di tutto questo rimarranno le foto, le testimonianze registrate, l'archivio di un passato che così non verrà perduto negli anni a venire.